Buongiorno, Buongiorno a tutti, benvenuti nuovamente all'Istituto di Cultura per questa seconda giornata di lavori del convegno per e con le missioni archeologiche italiane qui in Turchia. Ieri è stata una giornata molto fruttuosa, poi tireremo un po' le fila al termine del convegno. Adesso un po' per brevità andiamo veloci perché abbiamo tempi contingentati in quanto alle due meno un quarto dovremo partire con il pullman davanti all'Istituto per questa visita alle mura di Costantinopoli, la Porta Aurea, ci guiderà un archeologo con una visita guidata, anche lì avremo gli auricolari e la visita dovrà terminare improrogabilmente tra le 12 a 7, quindi avremo dei tempi molto stretti e contingentati. Quindi adesso appunto sono con noi sul palco Asena Chirzaganalolo e Annalisa Polosa, poi appunto salirà Laura Buccino con Mehmet e Iupolu. Faremo una pausa a caffè, sarà veramente una pausa molto breve, in quanto dopo interverrà Marianne Daloro e Tommaso Ismaelli. L'intervento di Giovanni Salmeri sarà in videoconferenza, ma in videoconferenza registrata perché purtroppo non ha potuto lasciare lo scavo, ci aveva avvisato in anticipo, quindi siamo riusciti a risolvere così. Alla fine insomma tirerò un po' io le fila del discorso con alcune raccomandazioni, quindi vi auguro una buona giornata di lavoro, ascolteremo anche oggi delle relazioni molto interessanti e niente, quindi direi di iniziare subito dando la parola a Annalisa Polosa. Buongiorno a tutti, anche io unisco ai ringraziamenti al direttore Salvatore Schirmo e a Elisabetta e Tangio che sono sempre molto affettuosi oltre che efficienti nell'organizzazione del convegno e voglio dire soltanto una parola sul fatto che mi dispiace molto di essere qui a parlare al posto di Marcello insieme ad Asena. Avrei molto preferito venirlo a sentire. Dunque, in questi anni la valorizzazione del patrimonio è diventata un obiettivo primario degli stati che detengono siti, monumenti, opere d'arte o più di recente anche ricchezze più immateriali come ad esempio la cucina mediterranea. Se da un lato si tratta di una tendenza meritevole che intende la cultura in un senso molto ampio e che ha il merito di atterrare l'attenzione sul patrimonio, d'altro canto in alcune circostanze lo scopo fa perdere un po' di vista il metodo e c'è una diffusa tendenza a far passare in secondo piano la ricerca che invece è lo strumento indispensabile per arrivare ad una corretta valorizzazione. Alcuni esempi riassumono in maniera efficace alcuni esempi riassumono in maniera efficace e gli approcci alla ricerca archeologica che si sono affermati di recente. Per esempio per trovare un fotogramma in cui è evocato uno scavo nei film di Indiana Jones bisogna cercare con molta pazienza e di fatto il concetto di archeologia nelle pellicole che hanno come protagonista l'icona dell'archeologo si riduce alla ricerca di oggetti particolarmente preziosi anche dal punto di vista simbolico come l'arca dell'alleanza o il santo graal e lo scavo non è una fonte per la ricostruzione del passato. Ora finché sono gli sceneggiatori a dipingere un'archeologia immaginaria allora non è un problema, il cinema è finzione, lo sappiamo ma lo stesso non si può dire quando sono le istituzioni che dovrebbero proteggere e valorizzare in maniera corretta il patrimonio a tendere alla spettacolarizzazione di alcune scoperte archeologiche come testimoniano per esempio le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati delle ricerche in uno dei siti più famosi al mondo quello di Pompei allora il carro, gli scheletri, il fast food cosiddetto la ricerca passa totalmente in secondo piano si mostrano gli oggetti già restaurati e pronti per essere esposti dimenticando che il risultato finale è frutto di uno studio estremamente paziente e anche spesso di una sintesi di ricerche multidisciplinari che concorrono alla comprensione dei siti permettendo di raccontarli in modo corretto. Ora non è una novità per nessuno tra coloro che ci ascoltano io intanto vi faccio vedere un po' di immagini delle indagini che facciamo nella Jussa che è l'area archeologica di la Jussa che è stesa per una superficie di circa 23 ettari solo parzialmente scavata e quindi gli interventi di scavo sono stati mirati soprattutto nel primo periodo di attività della missione di Sapienza in collaborazione con diverse istituzioni e università turche a mettere in luce e valorizzare i principali complessi monumentali della città per far emergere le potenzialità culturali del sito e proteggerlo dalle insidie della cementificazione sul tratto di costa dove sorge la città e in una fase successiva invece le indagini sono state soprattutto dettate dall'esigenza di conoscere meglio caratteristiche e sviluppo dell'impianto urbano che è un presupposto imprescindibile per permettere la fruizione del sito così il panorama, qui vedete restauri, ricerche antropologiche e via dicendo così il panorama del sito è cambiato dai tempi delle esplorazioni di Gertrude Bell agli inizi del XX secolo e lo scavo e il restauro del teatro permettono adesso di utilizzare l'edificio antico per spettacoli nel quadro delle iniziative culturali della Municipalità di Erdemli e della Büyükşehir Belediessi di Mersin per quanto attiene alla ricerca ancora non compiuta ma funzionale all'ampiamento delle aree archeologiche fruibili è esemplare il caso degli scavi all'estremità settentrionale del promontorio di Elaijussa qui nel corso delle primissime campagne di scavo era stata messa in luce una piccola basilica paleocristiana e nelle immediate vicinanze dell'edificio sacro erano visibili i resti di una struttura di forma approssimativamente circolare che al momento dell'inizio dello scavo si presentava isolata in una posizione sovrastante uno dei bacini portuali il che suggeriva la sua possibile identificazione come il faro della città ora le prospezioni geomagnetiche prima e poi lo scavo hanno dimostrato che in realtà la struttura circolare apparteneva a una fase molto tarda di occupazione dell'area che invece prima era interessata da una grande costruzione forse porticata che occupava almeno a quanto può essere detto a questo stadio delle ricerche tutta l'area settentrionale del promontorio e i saggi stratigrafici che abbiamo fatto in questo settore hanno permesso di identificare anche le fasi precedenti all'edificazione dell'edificio che risalgono all'età ellenistica e che confermano la precoce occupazione dell'area dove dovevano sorgere i complessi relativi alle prime fasi di vita della città antica allora noi possiamo cercare di raccontare la città soltanto se la conosciamo in anticipo questa cosa è impossibile voglio finire con due immagini che sono i primi risultati di un progetto di Marcello relativo alla ricostruzione e al rendering 3D della città che ovviamente adesso è uno stadio molto embrionale cioè si sono accesi molti edifici che probabilmente non ci sono ma in futuro noi cercheremo di trasformare questa immagine ideale in qualcosa di tangibile e reale che poi si può trasformare in una modalità di comunicazione noi sappiamo che la IUSA è stata sede di re ellenistici come Archelao di Cappadocia, Antioco IV di Commagene potremmo dire che andiamo in giro a scavare alla ricerca delle residenze di questi sovrani faremmo una gran bella figura con i giornalisti però non intendiamo la ricerca in questo modo mi ringrazio e passo la parola da Sena grazie ben de konferansın organizatörlerine bu davet nedeniyle l'ho voluto fare proprio in italiano però la mia presentazione sarà realizzata in turco prima di tutto devo dire che sono orgogliosa di partecipare agli scavi di Sebastia Baleosso e sono orgogliosa e sono anche molto felice di fare questa presentazione in certi argomenti voglio informarvi prima di farvi vedere gli slide e come sapete questi punti, queste città delle zone archeologiche danno delle informazioni sulla storia dell'umanità e poi si costruiscono dei parchi archeologici e questi vengono accettati da parte di tutti i visitatori così si crea una certa memoria e poi una certa coscienza storica ovviamente poi questo patrimonio culturale viene trasferito alle nuove generazioni infatti il pensiero di archeopark è stato molto importante da questo punto di vista e siccome parco ci porta anche altri servizi queste applicazioni si trovano in tutte le città e non si riesce ad avere in tutte le città oppure in tutti gli insediamenti perché così come state vedendo qui l'autostrada sta dividendo in due parti di conseguenza non si riesce ad avere un'idea integrale e di conseguenza dobbiamo portare avanti una programmazione molto delicata e sempre qui i dati digitali sono molto opportuni e poi dall'altro lato dobbiamo far capire anche alla gente che sta vivendo in quella zona e si deve parlare del percorso storico perché gli archeologi stanno lavorando in questa zona e tutto questo deve essere spiegato benissimo al popolo che sta vivendo in quella zona perché tutto questo sarà molto utile anche per loro certamente una buona parte di essi vogliono che questo porti un utilizzo economico ecco perciò cerchiamo di creare delle zone sociali dei punti di vendita cerchiamo di aumentare la domanda e tutto questo si deve spiegare in un modo molto giusto e così poi si deve avere una coscienza archeologica e storica se non vogliamo che ci siano le preoccupazioni economiche allora si deve dare più importanza all'educazione scolastica qui vediamo come era, cosa è diventato in realtà anche al popolo cerchiamo di dare questi risultati praticamente sono testimoni di ciò che abbiamo fatto e nello stesso momento vanno avanti anche le ristorazioni ristrutturazioni e così si riesce a dare la spiegazione ecco il teatro che cosa era, cosa è diventato adesso e quando vi mettete a parlare con i contadini loro dicono che noi non sapevamo credevamo che fosse pieno degli alberi di limone di conseguenza sono molto curiosi non avevano mai un'idea di ciò che c'era lì sotto un altro punto molto importante sono questi pannelli di informazione questo è il primo passo sono indispensabili perché sempre non si trovano le persone che vi possono fare delle spiegazioni ma basta leggere questi pannelli c'è anche un'altra promozione ci si aggiunge un pochettino di estetica la municipalità di Mersin ha fatto un'organizzazione e ha messo i ballerini a fare queste foto è molto interessante così il punto di vista dal patrimonio culturale è cambiato grazie a questi concetti estetici e poi ogni anno sulla stampa sulla stampa nazionale e internazionale oltre la lingua accademica cerchiamo di trasmettere le nostre notizie con un linguaggio più semplice qualche volta sono un po' sensazionali però non sono vuoti ecco qui si parla di 11.000 pezzi di ceramiche e alla fine dell'anno di scavo siamo arrivati a 45.000 pezzi ovviamente tutto questo si fa con la stampa locale ecco anche i social media sono sviluppati di conseguenza con questi testi cerchiamo di dare più informazioni e quest'anno pianifichiamo di iniziare ad una ristrutturazione molto probabilmente l'anno prossimo sarà iniziato questo nostro progetto e sempre la stampa locale va avanti con i simposio tematici e noi durante le nostre conferenze informiamo sugli scavi e diciamo come siamo partecipati a questi scavi e così riusciamo a spiegare in generale anche l'archeologia e qui dopo facciamo vedere come ci mettiamo a valorizzare i pezzi che abbiamo trovato e ovviamente questi sono lavori metodologici e cerchiamo di spiegare alle persone ecco per esempio i lavoratori che all'inizio venivano a lavare la pietra invece adesso al posto della pietra dicono anfora, sfilata cioè stanno usando la terminologia giusta non dicono solo la pietra ci sono gli stagia che vengono dalle università ma riescono ad avere un'esperienza così la loro informazione teorica si trasforma in quella pratica abbiamo parlato della ristrutturazione e questa immagine è meravigliosa per far capire la differenza di prima e di dopo un altro metodo sono i nostri musei il museo di Mersin è molto grande e la sezione nostra è veramente larga in modo tale da esporre e noi alla fine della ristrutturazione cerchiamo di mettere tutti questi oggetti pure il museo ci dà un grande sostegno qui vediamo il forno il macchetto del forno della fabbrica di anfora e il numero di queste anfore sta sempre aumentando per adesso sono 250 man mano che vengono ristrutturate vengono esposte sempre nel museo in Turchia così come si fa in tanti teatri anche qui nella zona nella zona nel modo molto controllato abbiamo fatto un festival di teatro ed è stato interessato da parte di tutti quelli di Mersin quelli delle altre città hanno partecipato infatti anche il ministero della cultura italiana ha parlato di questa nostra attività infatti noi portiamo avanti questa nostra collaborazione con il ministro della cultura italiana e poi abbiamo degli atelier e poi un'altra nostra attività il maratone di ultracilicia abbiamo fatto uno iniziava da teatro l'altro invece dalla necropoli settentrionale è stato molto divertente e per questo motivo magari con questo motivo sono venuti in questa città e poi sono ritornati e questo era un'organizzazione del municipio eppure noi abbiamo messo le nostre divise e abbiamo partecipato a questa gara in modo tale da far promuovere tutto ciò che abbiamo fatto e la Iussa Sebaste e qui poi magari ridicolo però qualche volta è anche piacevole il popolo decide di far conoscere questo sito in Turchia sapete tanti che prima del matrimonio si fanno queste foto ovviamente ci vuole un permesso e solo nelle zone che sono aperte al turismo e si possono fare queste foto certamente una cosa del genere diventa un motivo per attirare le persone le percezioni sono diverse i gusti sono diversi di conseguenza così come vedete questa coppia in realtà sono Ambra e Marco sono due italiane addirittura e hanno partecipato a questa nostra tradizione e dopo il matrimonio sono venuti in Turchia e poi si sono messi in posa proprio qui la ristrutturazione è importante specialmente per Archeopark la protezione consolidazione e poi l'accesso ai monumenti ecco tutto questo si realizza anche con organizzazioni dall'intorno anche così come ha detto Annalisa noi portiamo avanti anche i lavori tre dimensioni 3D noi abbiamo cercato di capire molto bene la città grazie alla tecnologia abbiamo avuto queste immagini che sono anche sotto il mare dopo aver capito per bene cerchiamo di trovare una strada giusta per poter trasmettere al pubblico qui vediamo una tomba monumentale accademicamente è molto importante come archivio una volta che noi lo conosceremo cercheremo di farlo vedere anche al pubblico alla fine devo dire che questo periodo è molto importante cioè noi dobbiamo ottenere tutti questi tutti questi e poi li dobbiamo tutte queste informazioni e poi li dobbiamo presentare al popolo certamente prima dobbiamo capire la sua realtà storica e poi con Archeopark e con l'amministrazione ci vuole una politica funzionale sempre in questa occasione voglio ringraziare al ministero della cultura alla direzione dei musei e poi a tutti quelli che hanno portato avanti gli scavi all'ultimo voglio rimemorare Marcello Barbanera come il personaggio il capo dei nostri scavi grazie per questo bell'intervento e ora ci sono domande prima di tutto qualcuno vuole dire qualcosa rimandiamo allora a dopo semmai e passiamo direttamente al secondo intervento Laura Buccino Luisa Musso e Eliushuk che però non sarà qui presente e al suo posto parlerà Mehmet Ali e Yupolu e Laura Buccino prima di tutto come funziona il puntatore scusi ma il puntatore ecco grazie molte buongiorno a tutti scusate e desidero innanzitutto ringraziare anche a nome di Luisa Musso l'istituto italiano di cultura di Istanbul per l'ottima organizzazione dell'evento in particolare il suo direttore il professor Schirmo per aver promosso questa iniziativa che è anche una preziosissima occasione di scambio e condivisione e siamo grate al direttore scientifico della missione di Pompeiopolis il professor Mevlut Eliushuk che purtroppo per un impegno istituzionale irrinunciabile oggi non è potuto essere presente e ci scusiamo anche perché questo ha sbilanciato un po' il nostro intervento noi presenteremo come vedrete lo scavo e il lavoro del gruppo italiano quindi manca un po' un inquadramento generale del sito al posto di Mevlut parlerà il suo collaboratore che quest'anno è stato il vice direttore dello scavo Mehmet Ali Eliopolu e con Mevlut da quest'estate abbiamo instaurato un eccellente rapporto di collaborazione basato sul dialogo e la condivisione e in tutti questi anni dal 2008 in cui abbiamo lavorato a Pompeiopolis per noi il lavorare in Turchia si è rivelata un'esperienza straordinaria un accrescimento scientifico e un arricchimento umano nel quadro del progetto Pompeiopolis che è una missione turca il gruppo italiano oggi facente capo alla fondazione Meda Mediterraneo Antico e al dipartimento SAGAS dell'Università di Firenze che beneficia dal 2021 di un cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale si è concentrato nello scavo di una grande residenza tardoantica sita alle pendici dello Zimbli Tepe dove si sviluppa la città non lontano dal corso del fiume Amnias ora l'indagine di questo sito ha una storia pregressa iniziata nel 1984 nel corso di scavi di emergenza condotti dal Museo archeologico di Castamono in un'area interessata già nel 1971 da profondi sbancamenti per la realizzazione di un deposito e una pesa di barbabietole che potete vedere qui infatti nella immagine ci si imbatte in strutture pertinenti a quello che sappiamo oggi essere il peristilio della residenza che è questo e in due ambienti adiacenti due dei quali in ambienti adiacenti due dei quali con pavimenti musivi uno è questo che vedremo poi e l'altro non si vede nella immagine che furono questi museici furono sezionati e posizionati su pannelli di cemento armato attualmente ricoverati al Museo di Castamono nel 2006 la Ludwig Maximilian Universität di Monaco nella cornice di un ambizioso progetto mirato alla conoscenza della città ha ripreso lo scavo dell'area con l'obiettivo di completare la messa in luce di uno dei mosaici già individuati nell'84 e in generale concentrarsi sugli apparati decorativi dell'abitazione il nostro progetto avviato come dicevo nel 2008 e giunto quest'anno alla quattordicesima campagna è partito da un diverso presupposto cioè quello di impostare uno scavo sistematico ed estensivo al fine di recuperare il manufatto architettonico nel suo complesso l'indagine stratigrafica è stata affidata a Massimo Brizzi Università di Daram affiancato da Antonio Abate e Giovanni Ricci tra gli specialisti dell'Equip ricordiamo per la ceramica Andreio Paite e Christophe Domuzalski per lo studio dei marmi e dei rivestimenti parietali Mattias Bruno eravamo convinti che valesse la pena investire in questo progetto perché si veniva a operare in una regione rimasta per molti aspetti ai margini delle ricerche archeologiche soprattutto di ambito romano e tardo antico e nello specifico per la possibilità di indagare approfonditamente un contesto abitativo al fine di studiarne le caratteristiche e le trasformazioni diacroniche e fornire un significativo apporto allo studio dell'edilizia abitativa in Asia Minore che grazie in particolare alle recenti ricerche condotte dalle Leutz Genel e Inge Jutreven si è indirizzato alla definizione delle prospettive regionali dell'architettura domestica tardo antica ora abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in una residenza molto estesa certamente non ben conservata a causa della massiccia spoliazione ma che consente di leggere in maniera chiara lo sviluppo architettonico e i successivi passaggi da contesto domestico ad area di destinazione produttiva e financo funeraria in un arco cronologico che dalla fine del terzo secolo arriva alla media età bizantina in effetti si può dire che tutto lo sviluppo topografico e urbanistico di Pompeiopolis sia ancora in fase di definizione sappiamo dalle fonti e anche da alcune emergenze archeologiche che la città fondata da Pompeo Magno fu fiorente nel secondo secolo quando ottenne il titolo onorifico di Metropolis di Paflagonia come anche documenta la dedica del teatro da parte di Gaius Claudius Severus membro di un'eminente famiglia locale un cui discendente sarebbe diventato genero dell'imperatore Marco Aurelio le recenti indagini archeologiche hanno dimostrato che Pompeiopolis dovette godere di un periodo di floridezza anche nel Tardo Antico come inequivocabilmente dichiara la storia del nostro edificio una floridezza che l'elevazione della città a sede Vescovile almeno dal 325 non può che confermare allo stato attuale la residenza risulta scavata per circa tre quarti della sua estensione e se ne conoscono i limiti a ovest e a est mentre i fronti sono collassati a nord a sud sono collassati a nord e a est si conoscono i limiti a ovest e a sud in corrispondenza a sud della grande strada lastricata che dalla valle dell'Amnias raggiungeva la sommità del Tepe per quanto riguarda la tipologia architettonica e l'articolazione della demora che in quanto tale visse attraverso varie fasi edilizie dalla seconda metà del terzo alla metà seconda metà del quinto secolo si enucleano vari elementi connotativi la villa è disposta a terrazze con distribuzione del costruito su almeno tre o più verosimilmente quattro livelli che di gradano da ovest verso est funge da distributore spaziale il grande peristilio che vedete qui 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 e qui con un'area interna sistemata a giardino sui bracci del quale si aprivano alcune delle stanze principali questo peristilio doveva avere originariamente una forma rettangolare allungata in un secondo momento venne diviso da un muro così da determinare due aree scoperte distinte tre sono gli ingressi individuati uno consisteva in uno scalone monumentale che dal cortile dava accesso al grandioso triclinio che è questo e qui vedete non più si è bloccato scusate perché non sto andando avanti il powerpoint eccolo questo è lo scalone monumentale che dal cortile dava accesso al grandioso triclinio affacciato a est che vedete quindi qui e che era affiancato a nord da un vano verosimilmente complementare e a sud da due vani con suspensure che erano separati da un corridoio e qui vedete il particolare dei due vani con le suspensure e il corridoio con gli intonaci su cui sono presenti degli interessanti graffiti che consentiva di scendere a livello dell'ambulacro ovest del peristilio il secondo ingresso si trovava sullo stesso cortile ed è qui in corrispondenza del numero 6 e consentiva di raggiungere attraverso questo corridoio appunto il numero 6 il braccio est del peristilio lasciando a destra un vano di rappresentanza che è questo di cui vi faccio vedere la slide con questo mosaico con la personificazione femminile che è diventata un po' il simbolo di Pompeiopolis e invece quindi invece lasciava dalla parte opposta questo grandioso ambiente che è quello che abbiamo visto nell'immagine degli scavi del 1984 uno spazioso ambiente rettangolare che accoglieva il visitatore con una frase benaugurante iscritta in una tabula ansata collocata in corrispondenza della soglia sul rivestimento musivo pavimentale l'iscrizione dice eselte pagato entra per il tuo bene il contenuto è noto da altri impianti termali ed è infatti probabile che questo vano costituisse un'anticamera alle terme edificate sulla terrazza inferiore è da tenere presente infatti che negli scavi degli anni 70 è stato messo in luce a questo livello un vano con pavimento mosaicato e vasca un frigidarium che avrebbe potuto far parte dell'impianto termale della residenza il terzo accesso si trovava sul lato opposto dell'edificio qui e dava sulla grande strada la stricata ed era monumentalizzato da un portico con colonne di cui rimangono due basi e qui potete vedere la proposta ricostruttiva realizzata da Mattias Bruno l'uso di enfatizzare gli accessi delle dimore lungo le strade principali è ben noto in Asia Minore e qui richiamiamo la raffigurazione lungo il bordo topografico del mosaico della megalopsiochia di Antiochia che è stato interpretato come una sorta di itinerario tra l'elegante sobborgo di Daphne e il centro di Antiochia in età tardoantica il portico della nostra residenza venne parcellizzato dando vita a una sequenza di piccoli ambienti di destinazione utilitaria e vedete qui e noi abbiamo riconosciuto durante lo scavo degli apprestamenti per cucinare conformemente a un uso che prevede l'occupazione dello spazio esterno attestato nell'orizzonte tardoantico di molte città dall'Africa al Medio Oriente ora fino a questo punto si tratta di trasformazioni che non compromettono la destinazione abitativa al pari di altri interventi riscontrati quali tamponature e frazionamenti come nel caso che abbiamo visto della divisione del peristilio di ben diversa natura è quanto accade nella media età bizantina quando una fetta consistenza della residenza immediatamente a nord del peristilio a nord del portico attigo al braccio sud del peristilio ospitò una cappella di destinazione funeraria e o sacra da cui provengono degli interessanti frammenti di affreschi questa cappella era circondata da un picco nucleo di tombe a fossa che hanno restituito materiali di grande rilevanza tra cui questo encolpion e delle armille femminili di vetro rimane poco dell'elevato della residenza ma si sono conservati o è stato possibile recuperare importanti testimonianze degli apparati decorativi originali e ci limitiamo a illustrare due casi in corso di studio da parte di Luisa Musso il più prestigioso è quello del triclinio dove è stato messo in luce un grandioso mosaico assegnabile alla seconda metà del terzo secolo che nel suo impaginato rispecchia la suddivisione tra il riquadro figurato e l'area destinata a ospitare le clinai con decoro geometrico formelle nella zona più esterna ed esagoni tra loro collegati da stelle a quattro punte contenenti un repertorio di animali e maschere teatrali il riquadro figurato consiste in una scena marina interessata da estesissime lacune dominata al centro da Poseidon sul carro con pescatori sia in barca sia su lingue di terra varietà di pesci isole con edifici a due angoli opposti un motivo non comune questo nell'ambiente sono stati recuperati a terra numerosissimi frammenti della decorazione parietale in opus sectile in corso di studio da parte di Mattias Bruno che ha provveduto anche alla ricostruzione parziale e di questi lacerti perché alcuni vedete sono ancora accostati in caduta e quindi hanno consentito una parziale ricostruzione dell'ornato parietale che attesta per articolazione e ricchezza il notevole livello qualitativo dell'opera e quello economico della committenza livello che accomuna questa residenza ad altri contesti tardoantichi dell'Oriente citiamo a titolo semplificativo le case di Apamea l'ornato comprende motivi geometrici vegetali e figurati ai primi appartengono frammenti di dischi in giallo antico e frammenti di incorniciature di dischi con il motivo accancorrente l'ornato vegetale è attestato da foglie in calcare marrone verde corolle di calcare rosso e tralci vegetali mentre alcuni minuti frammenti sono riferibili ad arti o di talfi di figure umane rispetto al mosaico con soggetto marino va attribuita una differente fase cronologica tra metà e seconda metà del quarto secolo il pavimento musivo realizzato nel cosiddetto rainbow style di cui l'oriente ha restituito meravigliosi esempi e tra essi va adesso annoverato questo mosaico ancora in fase di scavo nell'ambulacrovest del peristilio lo sviluppo di un meandro doppio a svastiche con disposizione in diagonale delle tessere a creare il cosiddetto effetto arcobaleno era intervallato da riquadri con inclusi tondi che ricavano busti di personificazione e finora è stato messo in luce questo con il busto femminile che è accompagnato dalle leggende actisis nell'accezione di fondazione e come l'attributo del regolo sta a indicare edificazione e costruzione accendiamo poi brevemente i materiali marmorei recuperati dalla residenza ci sono molti frammenti architettonici tra cui spicca il grande capitello di Lesena con testa di Gor che ora si trova nell'antiquarium allestito sul sito frustoli di scultura e soprattutto questa interessantissima meridiana che appartiene a un tipo non comune cosiddetto multiplo che presenta quattro quadranti solari il maggiore sul lato frontale gli altri ricavati sulla sommità e sui due lati è un tipo raro noto comunque da un esemplare rinvenuto a SIDE ma con differente disposizione degli orologi date le dimensioni e la complessità dell'esecuzione è possibile che pertinesse originariamente a un contesto pubblico a questo punto va fatto presente infatti che la maggior parte dei reperti scultorei della villa proviene da strati di riempimento e non è attribuibile all'arredo fanno eccezione alcuni frammenti di bronzo ma soprattutto questa menza in verde antico delle cave della tessaglia parzialmente ricomposta da quattro frammenti tre dei quali pur rinvenuti in anni diversi e in strati di riempimento differenti attaccano è una menza sigma che doveva essere allestita in un ambiente di rappresentanza destinato alla convivialità se non in un triclinio di cui un esemplare prossimo è stato rinvenuto nella maison du serf ad Apamea il possesso di un pezzo così di prestigio la cui produzione è correntemente riferita a officine specializzate attive nell'area di estrazione del materiale non fa che confermare il potenziale economico del proprietario della residenza e l'integrazione di Pompeiopolis nella circolazione di beni di lusso a scala mediterranea ancora nel quinto secolo ora termino questa presentazione con alcune considerazioni sul programma di conservazione che introducono poi l'intervento di Mehmet Ali un programma di conservazione strettamente connesso a quello della futura fruizione del sito archeologico di Pompeiopolis siamo siamo convinti che se lo scavo è un privilegio la conservazione è un dovere condiviso tra le missioni archeologiche e le istituzioni locali ed è un sentire comune visti gli interventi insomma di questi giorni e naturalmente a Pompeiopolis il restauro che è andato di pari passo con lo scavo è stata un'emergenza anche per le difficili condizioni climatiche per cui la perdita diciamo di quanto messo in luce avviene in tempi molto rapidi non è solo ineludibile la fondazione meda si è fatto carico di interventi diffusi eseguiti negli ultimi anni da operatori turchi sulle strutture murarie ai fini del loro consolidamento e parziale ripristino sugli intonaci e sui pavimenti musivi anche con interventi di stacco e di riposizionamento dei pannelli ricollocati in situ come è il caso del lavoro degli ultimi due anni nel vano di rappresentanza con la personificazione femminile quindi auspichiamo che l'area archeologica di Pompeiopolis possa presto venire adeguatamente valorizzata con la creazione di idonei percorsi che consentano al visitatore di comprendere l'importanza dell'edificio nel contesto regionale pontico ma anche di cogliere le sue metamorfosi funzionali nel corso dei secoli vi ringrazio e lascio la parola a Memetali e buongiorno a tutti vorrei ringraziare a tutti i partecipanti esteri e locali e al posto di Eliushuk sono venuto io ha dovuto partecipare ad un incontro importante del ministero di cultura nel 2022 abbiamo portato avanti gli scavi e i lavori di ristrutturazione parlerò di questi prima di tutto questi nostri lavori e le mura degli spazi pavimenti in mattone i canali di acqua i mosaici sono stati questi punti sui quali abbiamo lavorato in questo contesto vorrei parlare delle mura le mura sono delle pietre e c'è basalto c'è marmo dentro sia per il suo periodo sia per dopo a causa dell'effetto delle condizioni geografiche sono state demolite queste mura noi abbiamo cercato di fare keeping di mettere di complimentare e vediamo quello che era prima dopo ecco qui cosa abbiamo messo in che modo li abbiamo riempiti e poi sempre nello stesso modo abbiamo fatto anche quest'altra lavorazione certamente anche malta nel tempo perde la sua caratteristica allora li abbiamo prima puliti poi abbiamo completato vediamo altri esemplari dall'aria si è fatta questa foto dall'alto in alcune pietre ci sono degenerazioni molto dense e allora abbiamo messo a posto in questo modo e anche i pavimenti mattoni come sapete non sono molto delicati di conseguenza si sono deformati tanto c'era alghe sopra spaccature alcuni pezzi erano del tutto perso dopo dopo la pulizia e il silicata abbiamo messo sopra per poter consolidarli e per evitare e abbiamo lavorato anche sulle bordure e la pulizia e tutti i chimici abbiamo applicato e alla fine abbiamo ottenuto questo aspetto da atrium verso peristilio abbiamo lavorato stavolta sui canali in questo contesto abbiamo stabilito certi pezzi che stavano per essere completamente persi allora li abbiamo consolidati e così vediamo quello che era prima e quello che abbiamo ottenuto dopo anche i mosaici sono molto importanti per la città così come ha detto anche professoressa Laura in generale sono sono stati trovati dopo 84 erano stati portati al deposito del museo dal 2022 in più abbiamo lavorato per ristrutturarli e per poter esporli al loro posto vero e proprio quest'anno tre pezzi abbiamo portato al loro posto abbiamo stabilito la loro situazione e così abbiamo messo al posto giusto certamente per poter esporli al loro posto devono essere molto ben conservati infatti prima si era utilizzato il tetto in legno ma siccome in quella zona c'è tanta pioggia adesso abbiamo utilizzato dei coperchi apribili smontabili sempre in altre stagioni e altri mosaici per poter conservarli avevano fatto questi tetti e dal 2023 in poi siccome faremo altri lavori abbiamo un po' innalzato questi tetti in modo tale da far lavorare i nostri colleghi questo questo è un posto dove portiamo avanti i lavori per il tetto il nostro obiettivo è quello di proteggere i mosaici dal prestiglio occidentale questo è un progetto che non si è ancora realizzato all'interno dello spazio una volta finiti tutti i nostri lavori di conservazione vogliamo che il monumento che la costruzione sia visitabile da parte di quelli che vengono questo è un progetto esemplare però ho voluto farlo vedere un altro edificio molto importante che lo scavo ancora non è completato è il teatro questo abbiamo portato al consiglio ed è stato approvato e abbiamo realizzato gli scanner con laser e quest'anno andranno avanti in questa direzione i nostri lavori ci sono tre scaline in marmo che sono state conservate una volta che metteremo a posto tutto intorno lavoreremo per complementare e qui vediamo il parodoso orientale molto probabilmente e nel 2022 i nostri primi lavori erano per realizzare erano stati fatti con lo scanner era una preparazione abbiamo cercato di trovare i documenti per i resti era un lavoro importante per noi per poter capire che cosa avevamo in mano una volta che abbiamo complementato questa fase di preparazione pianifichiamo di mettere quattro scaline in pietra però prima dobbiamo mettere a posto tutto l'intorno dopo dobbiamo fare portare avanti questo nostro lavoro voglio ringraziare a tutti voi a Tarik al ministero della cultura e anche all'ambasciata italiana che ci ha ospitato qui e ovviamente anche ai nostri professori grazie ancora questo interessante intervento sul quale ci sono domande già ora no allora lo chiudiamo per questa prima sessione c'è una pausa caffè ci rivediamo qui alle 11 va bene abbreviamo un po' la pausa caffè per recuperare questi minuti grazie un po' un po' Grazie a tutti